Dopo il vertice di ieri sera con il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia, le regioni hanno ricevuto il via libera per gestire autonomamente tramite ordinanze regionali le riaperture di negozi, bar, ristoranti, parrucchieri già dal 18 maggio. La Lombardia però tira il freno a mano con il governatore Fontana che annuncia che solo giovedì, quando dovrebbero arrivare le analisi dell'andamento della curva epidemiologica e le linee guida stilate dall'INA e le correcole e comportamenti da seguire sui luoghi di lavoro, si potrà dare una risposta positiva o negativa sull'apertura di qualche attività in più. Per il segretario generale di Confcommercio Milano, Monza Brianza e Lodi, Marco Barbieri però, dopo due mesi di lockdown ora è necessario far ripartire la città. È chiaro che questa ripresa deve essere una ripresa in sicurezza e con tutti i protocolli di sicurezza o comunque con tutti gli adempimenti che dovranno comunque adempiere, sarà una ripresa molto complicata e difficile, però certamente è sempre meglio ripartire magari un po' ciaccati, passatemi questo termine, ma ripartire piuttosto che star fermi. Le linee guida prevederanno però delle regole ben definite che in alcuni casi, come ad esempio per il settore della ristorazione, potrebbero costare caro. È chiaro che l'applicazione di questi protocolli comporterà inevitabilmente che inizialmente le imprese partiranno con il freno a mano leggermente, anzi ampiamente tirato. Speriamo però che con l'iniezione di liquidità a fondo perso che dovrebbe andare nel prossimo decreto di rilancio e soprattutto anche con la sospensione delle moratorie fiscali, o la sospensione dei tributi locali con i moratori fiscali, possono dare quella boccata di ossigeno che vada un po' a compensare quel freno a mano tirato inizialmente nei confronti delle attività, in generale tutte e soprattutto delle attività di ristorazione. E per quanto riguarda invece la possibilità di spalmare su orari diversi l'apertura delle varie attività lavorative, Barbieri è chiaro, l'orario delle attività commerciali è l'ultimo anello di una politica degli orari nuova e diversa che deve essere impostata sulla città. Le imprese si adeguano per ovvi motivi, perché sono imprenditori nel rischio di impresa, a quelli che sono i nuovi flussi all'interno della città e le imprese aprono in relazione a dove ci sono i flussi e dove ci sono le persone. Tenendo presente per di più che un esercizio commerciale ha anche dei vincoli che vanno al di là semplicemente dell'orario, ha dei vincoli di natura contrattuali, ha dei vincoli anche di natura sindacali. Una commessa alle 10 di mattina a un costo, alle 10 di sera a un altro costo e soprattutto il lavoro notturno ha anche dei limiti di natura legale. Quindi c'è una serie di complessità nella gestione di un negozio, per cui semplicemente non si può dire un cambio d'orario che viene fatto con la bacchetta magica.